Allora, devo iniziare questo video con una premessa. La premessa è semplicemente che dovete, sinceramente, fare affidamento agli endi sanitari, agli endi che si occupano della cura delle malattie infettive, a medici, a specialisti, a gente che sta adesso nei laboratori cercando di trovare una soluzione. Non dovete sempre affidarvi di persone che camminano su una strada a Tokyo e dicono che c'è gente in mezzo alla strada, nel parco, quindi qua l'immunità nipponica, tutti stanno bene perché hanno la pillola della felicità in dusk. Raga, cinque anni vivo in Giappone, vivo qua, mia moglie, usciamo sempre, le notizie arrivano. Vi parlo da un cittadino normale che vive in un paese e vede le notizie. Allora, tre giorni fa l'NCK ha pubblicato la notizia che un'equipe di specialisti, ripeto, un'equipe di specialisti, no pingo pallino, hanno fatto un esperimento su circa 300 pazienti di questo farmaco e hanno visto che ha dei lati positivi nel curare alcuni sindomi e alcune situazioni. Mi lascio tutti i fottuti link in descrizione perché la gente deve mettere i cavolo dei link quando parli di cose così serie. Qua si parla, allora, fare leva sulla debolezza della gente è una cosa proprio di una tristezza unica perché si crea solo, è brutto dirlo, false speranze. Al momento questo farmaco in Giappone è in via sperimentale. Vuol dire che, e vi lascio pure il link dell'ende nazionale giapponese, scusate in giapponese, raga, fatevi una traduzione, perché ci sono sei pagine con tutti i farmaci che sono in laboratorio in via sperimentale, cioè che non hanno avuto il via libera del governo per l'utilizzo sulle persone. Questo farmaco è stato creato in Giappone, sì, era un farmaco che non è stato al momento ancora messo in vendita, cura patologie, cura riguardanti comunque a livello respiratorio. Basta, ma al momento non si può comprare come si compra il pane perché non c'è una pillola del magica qua in Giappone. Non è il farmaco, raga, non è, basta con queste storie del, tipo il farmaco quello russo e altre cose che in questo momento la gente ci macina sopra. Non c'è sta cosa qua, non è che noi ci è arrivato il bigliettino nella posta e ci hanno detto, oh mi raccomando che se avete occasioni mi dite qua vi diamo la pillolina magica e guarite. Tristemente non c'è, magari, io me lo auguro, ma come ce l'auguriamo? Dando la possibilità agli enti che si occupano di fare ricerca, di trovare loro la soluzione, perché loro sono quelle persone incapaci di salvare e di crearci, di dare una possibilità a noi in un futuro prossimo, si spera il più presto possibile, ma è tutto quanto una novità, non è una cosa che si combatte per la prima volta. Quello che posso dirvi io, e darvi dei link su quale ci stanno riferimenti, ha una multinazionale cinese farmaceutica che ha avuto un accordo con la Fujifilm, che è l'azienda che ha creato questo farmaco, e loro hanno solo avuto un accordo su principio attivo. Quindi il principio attivo del farmaco viene utilizzato in Cina già da un paio di anni. Non il farmaco in sé per sé. Il farmaco non è riperibile. Ve lo ripeto, io non so come devo dirvelo diversamente. Leggo quello che una ragazza italiana ha pubblicato su Facebook per cercare di calmare gli animi delle persone. Finché il farmaco non avrà l'ok dell'istituto e la possibilità di essere usato off-level, che nel termine vuol dire fuori dalle indicazioni, ma deve essere provato in laboratorio, fino a quando non avrà il cavolo del via libera, le autorizzazioni ministeriali non ne è confermato nulla. Quindi dire che questo farmaco viene utilizzato in Giappone è sbagliato. Stanno sperimentando al laboratorio. È tutta teoria. Non ci sta niente. Voi vi domandate, ma Giovanni allora, tutti questi giapponesi in giro che escono sono sicuri? Allora vi dico una cosa. Cosa fate voi? A posto mio. Se il governo non mette nessun blocco, né ai posti di lavoro, né ai treni, né a niente, cioè quindi la vita che facevi prima è la stessa che devi fare adesso. Cosa vuol dire? Che a fine mese devi fare la bolletta da luce, a fine mese devi pagare il cavolo affitto. Come io, tutti i giapponesi, abbiamo le spese, abbiamo la vita. Non ci possiamo fermare perché non c'è un fermo dello Stato. Lo Stato non si è mosso. Vi dico un'altra cosa in più. Finito sta pausa primaverile della chiusura delle scuole, per il periodo primaverile perché le scuole in Giappone sono state chiuse, in anticipo di due settimane solo, ma le due settimane di seguito, quella che stiamo vivendo adesso, è la chiusura normale delle scuole. Come finire questo periodo? Le scuole riaprono, i ragazzi vanno a scuola come è normale, perché il governo dice così e noi non possiamo farci niente. Non è che ti metti, ti isoli e fai come... Io comunque sarò costretto a prendere il treno per andare a lavorare. Io e mia moglie siamo dipendenti dai trasporti come migliaia, centinaia, centinaia, e milioni di giapponesi tutti i cavoli dei giorni. Non è una situazione che alla fine dobbiamo vivere e dobbiamo andare a lavorare. Fare soldi, pagare le spese. Quello che c'è da fare? Manda avanti le famiglie, cioè... E questo non è ingoscienza. Poi è normale che alcuni giapponesi dicono ma se io da lunedì al venerdì me la sto rischiando sui trasporti e quando comunque io sono esposto per andare a lavoro, tanto vale che perché sabato e domenica dovrei stare chiuso? Quindi è facile, ma dal parco me la godo. Per la questione è ingoscienza, è irresponsabilità, è soggettiva. Sono scelte che ognuno fa liberamente. Però io posso da una parte capirlo. È così. Mi dispiace raga, con tutto il bene del mondo, a me la lettera a casa della pillola magica non mi è arrivata. Non in gesto, ma insomma il nostro farmaco è in via sperimentale. Fatemi una cortesia. E ve lo dico da figlio unico che ha due genitori di 70 e 80 anni a casa in Italia, chiusi, in quarantena come lo siete voi, come tanti di voi che mi stanno guardando. Che se ci è una cura, io sono il primo che lo spera. È veramente di cuore, non so come dirlo, ma lasciamo parlare chi cavolo ne sa più di noi. Mettete in dubbio sempre tutti, non vi fidate. Lo so che è il momento di paura, è il momento che si vuole una certezza, è il momento che forse si vuole dare una speranza a qualcuno. Ma alimentate solo una situazione ancora più negativa. Soprattutto lo sciacallaggio dovuto poi a chi pensa di fare soldi in questa cosa. Chi pensa che poi vi vende un farmaco sotto banco. Cioè non esiste la pillola della tosse che salva il mondo. Stanno facendo le ricerche, stanno testando, stanno cercando di trovare il farmaco che salverà le persone. La soluzione? Ma lo devono fare? Chi si occupa, chi è studiato, chi sta nei laboratori mattina, pomeriggia e sera? Sono loro che ci devono dare una risposta. Non chi gira a mezza a una strada e dice Oh guardate qua va tutto bene perché stanno col culo fuori. E mi dà fastidio a me sta cosa raga. E mi dà proprio fastidio. Perché io sono, non lo dico perché ho due genitori a casa pure io. Amici, cose, cioè è una situazione che bisogna stare attenti. Non si crede che crea allarmismo in questa maniera. È sbagliato. E non si deve fomentare con complottismo, speranze. Mi dispiace dover forse rovinare i sogni di qualcuno di voi. Ma lì io devo essere vero. Non posso... Spero che veramente la ricerca vada avanti. Spero che mi abbia trovata soluzione. Spero che arrivi. Ma tuttora tutti i paesi del mondo stanno cercando di sperimentare. E il Giappone è uno di questi qua. Da febbraio hanno cominciato. C'è un link che vi lascio in descrizione. Che c'è un elenco di vari farmaci che il Giappone sta sperimentando. Sperimentando. Poi vi dico una cosa. Alcuni farmaci in Giappone, sai come funziona? Io ho fatto un video quando mi sono messo percato l'influenza. Come tanti altri. Qua in Giappone, due anni fa. Ho fatto un video che ho spiegato un po' come funziona. Quando tu vai in una clinica e poi ti fanno il test per vedere se tu sei positivo l'influenza. Poi ti prescrivono i farmaci. In Giappone funziona che tu non ricevi il pacco di 50 pillole e te lo porti a casa. Quanto è la cura? Cinque giorni. E cinque giorni tu ricevi... Quante sono? Tre... Colazione, pranzo e cena. Tre per cinque e quindici. Quindici pillole. Finito. Cioè, se qualcuno vi arriva e dice Oh, c'ho mezzo pacco che mi hai avanzato. Ma paghi. Non esiste, raga. In Giappone non danno le convenzioni in questa maniera. Non esiste. La cura, se viene somministrata, sarà somministrata dagli enti competenti, dalle cliniche competenti, dai medici competenti. Non so come cavolo volevo dire più di questa cosa qua. Raga, fatevi furbi. Mettete in dubbio qualsiasi cosa. Non creiamo allarmismo. Ne usciremo. Prego che sia più presto possibile. Ma al momento, se vedete gente in giro in Giappone, semplicemente perché il governo non ha preso misure di restrittive. Non ha detto, da domani chiudono i pub, i ristoranti, i tot, uffici. Pensate che la gran parte della popolazione non lavora come salarie menne da remoto. Ma forse io domani devo prendere un cavolo del trono che devo andare a lavorare, raga. Perché i dolci non nemmeno li posso fare da casa. Ma io, come tante altre attività commerciali, siamo sempre soggetti a un'esposizione. Quello è. Ma perché non abbiamo fermi? Quindi non abbiamo dei vincoli dello Stato. Stato ci dice solo, ci è consigliato di tenere la distanza di sicurezza, di prevenire, di lavarci le mani, di evitare i contatti del corpo con altre persone. La classica stretta di mano, per fare un esempio, cosa che non esiste qua in Giappone. Igenizzarsi sempre le mani ovunque. Quello è che ci ha detto. Ci sono dei consigli. Basta. Non c'è un obbligo. Non ci sono dei divieti. Quindi tutti fanno quello che devono fare. Vivono la vita come l'hanno vivendo. L'hanno sempre vissuta. Sia l'esagerazione, sia la manganza di protezione. Così funziona. Quindi, quello è. Io domani vado a lavorare perché mi servono i soldi per pagare l'affitto, per pagare la mania e per andare avanti. Passami le contributi. Perché se sto a casa, sto a casa io, a me l'azienda mi dice che cavolo sta a fare a casa? Mica qualcuno dice che devi stare a casa. E questa è la realtà. Chi sta a casa, chi lavora in proprio, e molti stanno nel mondo del turismo, il quale è il settore più danneggiato. Quindi sono rimasti senza lavoro. Molti loro stanno a casa. Ma io che sono dipendente, come mia moglie, come tanti altri giapponesi, che dipendiamo dal contratto dell'azienda, mi ho mandato a lavorare. Punto. Spero che il video sia chiaro. Scusate perché è una cosa che, ve lo dico, con cuore in mano. Cioè io c'ho mia madre e mio padre. Ma secondo voi? Ma io non sono come voi che spero di trovare una possibilità. Ma io la spero. Spero. Più di questo che possiamo fare. Ma non credete al primo che parla, ragazzi. Bene che vi voglio. Non credete al primo che parla. Diamo, e lo ripeto, forse per la decima volta, la parola a chi ne sa più di noi. A chi sta nel laboratorio adesso e sta cercando di uscirne fuori. Mattina, pomeriggio, sera e notte, cercando di trovare una soluzione. Un ben zero va loro che... E ai medici e a chiunque. E a chiunque si sta sacrificando adesso per andare avanti. La situazione è anche in Italia. Fate bravi, ragazzi. Le voglio bene. Basta dal mesmo.